Cominciamo questo video con Gary Turner, ma conosciuto da tutti come Gary Stretch. È un cittadino britannico, noto per la sua incredibile capacità di estendere la pelle del suo corpo senza subire danni o sentire dolore. È diventato famoso per aver acquisito nel 1999 il Guinness World Record per la pelle più elastica al mondo. La sua incredibile dote, gli permette di allungare la pelle di guance, collo e altre parti del corpo in modo impressionante. Il suo Guinness World Record è stato riconosciuto per la maggior distanza di pelle tesa su un corpo umano, e la sua abilità più notevole, riguarda l'addome, che può essere esteso in maniera impressionante, raggiungendo un'estensione di circa 15,8 cm a partire dal suo stomaco. Dimensioni simili a quelle di una gravidanza avanzata. Questa capacità è dovuta a una condizione medica chiamata sindrome di Ehlers-Danlos. Una rara malattia genetica del tessuto connettivo che rende la sua pelle più elastica rispetto a quella delle persone comuni. È così elastico che può addirittura indossare la sua pelle come fosse una sciarpa. Gary ha mostrato la sua incredibile abilità in diversi spettacoli televisivi e eventi dal vivo, affascinando il pubblico, e attirando l'attenzione dei media, facendolo diventare famoso in tutto il mondo. È importante notare, che Gary ha acquisito il suo Guinness grazie alle caratteristiche naturali del suo corpo, e non attraverso interventi chirurgici o trattamenti artificiali. La sua storia è solo uno degli esempi di corpi straordinari che possiamo trovare nel mondo, e che dimostrano quanto sia varia e sorprendente la natura umana.